anche solo un sorriso cerchio ifior attraverso tullia e gian viola fate vostre quelle parole imparate a dare anche se poi il problema del vostro egoismo vi farà passare momenti difficili ma considerate che comunque sia quel problema egoistico resterà sempre soltanto un problema vostro un problema individuale e non un problema di chi da voi saprà ricevere anche solo un sorriso